Sabato 9 marzo ci sarà un convegno sulla sindrome fibromialgica dal titolo la sindrome fibromialgica diagnosi senza markers. Ciò evidenzia quello che è la problematica di questa patologia ovvero un'assenza di diagnosi che crea fortemente dei problemi proprio per la diagnosi di questa malattia. Non ci sono marcatori, non ci sono evidenze e tutto ciò porta purtroppo a rendere questa malattia una malattia invisibile. Il convegno è stato organizzato dal comune di Modica, dall'associazione Movimento Difesa del Cittadino e per questo ringrazio caldamente chi si è prodigato insieme anche ad AISF proprio l'organizzazione di questo convegno, in particolare la presidente regionale del movimento che è la dottoressa Enrichetta Guerrieri. Abbiamo insieme organizzato questo evento proprio per cercare di sensibilizzare sul territorio sia medici sia cittadinanza sia pazienti su questo veramente problema che è il mancato riconoscimento della sindrome fibromialgica e la conoscenza di questa patologia. Al convegno saranno presenti diversi specialisti, si tratteranno diverse tematiche, appunto la malattia è gestita in maniera multidisciplinare quindi tanti sono gli specialisti che si occupano delle malattie ed è così che sarà e pensiamo ma sicuramente ci auguriamo un momento di forte informazione importante informazione quindi invitiamo chiunque fosse interessato pazienti, familiari ma soprattutto la classe medica a partecipare a questo convegno che ricordo sarà presso l'auditorium floridia e inizierà alle ore 9.30. Vi aspettiamo in tanti, l'informazione è fondamentale.